Reclamizzo di vero cuore questo evento o prodotto Ciao a tutti, ciao ciao ciao, eccoci qua Allora, come ti presenti? Ti presento come doppiatore dialoghista, adattatore, se non erro direttore del doppiaggio e anche fumettista peraltro E anche fumettista, certo, autore di fumetti, disegnatore e sceneggiatore E' vero, hai lavorato per Cattivic, Lupo Alberto, se non erro Sì sì, benissimo, Tupolino, Feci molti porno Belli, poi no, questa voglio aprirla come parentesi assolutamente Perché quei libretti porno italiani vengono sempre dimenticati non vengono mai citati come se la gente se ne vergognasse invece è importante, cazzo E' importante anche perché hanno fatto le ossa tantissimi bravissimi autori di fumetti tra cui Milo Manara per esempio Vero, 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 sì sì, ma anche Magnus ha fatto Magnus, accidenti, come no? Ha fatto Necron Te ricordi Necron? Necron, sì Ho la collezione completa di Necron Necron, tra l'altro, se hai la prima edizione sei tipo ricco perché non è facilissimo da trovare No, no Ok, però, wow, io tentai da ragazzini trovarla Ho gli ultimi due albetti di Necron, originali, quello sì Bellissimo In realtà non so se lo sapete, Necron, ragazzi, era una sorta di fumetto dove la protagonista era questa scienziata pazza sadomasochista e pure necrofile aveva inventato questo mostro di Frankenstein che attivava e che si trombava, diciamo, quando aveva voglia c'era una cosa completamente folle e Magnus veniva dal gruppo TNT, quindi era una roba abbastanza inusuale per l'epoca Va bene, comunque Fabrizio, allora, molti ovviamente si sono affezionati a te, compreso io che sono nato nel 90 preciso, spaccato, ha la tua voce per un personaggio emblematico, ha citato subito così affrontiamo l'elefante nella stanza e poi andiamo verso nuovi orizzonti che è Crusty il Clown, te sei la voce ufficiale di Crusty il Clown e anche di Eros che in realtà io ascoltavo con affetto anche quando guardavo Pollon però Crusty diciamo che è rimasto nella storia perché gli ha dato questa voce parecchio sporca da fumatore incallito quale è Crusty ed è stata secondo me una scelta perfetta però prima di parlare di magari gli aneddoti, le cose più interessanti del doppiaggio con i Simpsons io voglio capire come hai iniziato nella tua carriera Allora, ho iniziato nella mia carriera da piccolissimo, avevo circa 5, 6, 7 anni, non mi ricordo bene facendo l'attore in carne e ossa, interpretando i famosi, all'epoca si chiamavano non Spot ma i Caroselli poi facevo gli scimici di tv, film per il cinema con Lando Buzzanka, Renato Pozzetto, Vittorio De Sica, Gasman e quindi poi c'era l'esigenza però poi di doppiarmi da solo e ho conosciuto l'ambiente del doppiaggio e quindi poi man mano crescendo mi piaceva molto di più stare nell'ambiente del doppiaggio piuttosto che andare a fare i provini, andare sul set la mattina presto, alzarsi, aspettare tante ore prima di fare il ciak mi piaceva di più e mi sembrava anche più professionale l'ambiente del doppiaggio per cui come dire, tutte le mie forze le ho messe nel crearmi una carriera come doppiatore insomma Qual è la prima cosa che hai doppiato? A parte te stesso ovviamente Ma allora, sai che non me la ricordo? Da qualche parte forse l'ho segnata, credo mi pare di ricordare perché l'ho segnato, un'isola del tesoro con dei bambini, ho dei ricordi vaghi però mi ricordo il mio primo cartone che non fu come molti pensano i Puffi o Goldrake ma erano i Flintstones, poi venne Vicky il Vitingo e poi la famiglia Addams Ok, beh figo, cioè quindi hai toccato un po' di Giappone, un po' di America, serie low budget, animazione di tutto che poi te sei tra l'altro uno dei pochi doppiatori o dialoghisti che quando si parla di cartoni animati eccetera, è veramente appassionato di quella roba, cioè perché molti si aspettano che quando si va dal doppiatore che doppia l'anime di successo eccetera, quel doppiatore sappia tutto di quel determinato anime e invece non è così, anche Maurizio Merluzzo è bello intrippato, però è più giusto Sì esatto, però te sei veramente appassionato di anime Sì sì sì, io secondo me insomma parte della mia forza se vogliamo Quando ho cominciato a dirigere gli anime, diciamo quella cosa in più che avevo è che ero un appassionato e seguivo insomma la storia e riuscivo anche come dire a dare una certa energia poi agli attori perché gli spiegavo insomma, tra l'altro proprio per come dire valorizzare il prodotto del cartone animato mi ricordo che all'epoca ho voluto chiamare voci d'eccezione che generalmente doppiavano solamente film per il cinema e invece insomma, ma perché? Cioè valorizziamo anche l'anime giapponese, ma perché nessuno se lo fila? E quindi insomma ho voluto dare voci di spicco anche ai cartone giapponesi che all'epoca andavano in VHS addirittura o poco più Ok, e tra le altre cose io ti volevo fare una domanda molto specifica perché ho sempre avuto curiosità del primissimo periodo in cui gli anime arrivavano in Italia e quindi venivano comprati, si comprava, non quello che c'era, ma si comprava un po' tutto alla cieca via diciamo così Sì, sotto banco insomma E non c'era la stessa cultura che c'è oggi, ecco diciamo così E te che ricordi hai di quel periodo lì? Cioè hai visto qualcosa, hai sentito di gente che ha comprato anime sei stato dietro a queste fasi cruciali insomma della storia dell'anime in Italia? Come no, come no Io appunto assente appassionato di fumetti, bazzicavo spesso una libreria di Roma che si chiamava Metropolis e quindi lì ovviamente passava tantissima fauna di appassionati di fumetti, animazione e quant'altro E mi ricordo che all'epoca, appunto all'epoca delle VHS Guarda, la Dynamic Italia ancora proprio era di là da venire Gli Amato non mi ricordo se muoveva i primi passi o ancora non c'era Quello che ricordo specialmente è che c'erano tantissime persone Che compravano le VHS a 100-200 mila lire, una cifra tantissima per l'epoca Perché venivano dal Giappone, venivano poi riversate in VHS Ed erano titoli da noi insomma sconosciuti Mi ricordo che c'era la Città delle Bestie che solo dopo, tanti anni dopo, è venuta in italiano Ma all'epoca insomma c'era la Città delle Bestie, ci stava, parca miseria, non mi ricordo Grey forse si chiamava Eh, questo non lo conosco nemmeno io Eh, no, non mi ricordo, insomma ma a titoli ti parlo degli anni, fini anni 80, ecco, la preistoria Io di VHS Costoso mi ricordo quelle di Evangelion, quelle erano costosissime Mi ricordo che avevano dei prezzi impossibili Fu una scelta dell'allora, insomma, direzione artistica Ma insomma, certo, erano belle costose, sì E poi erano solo due episodi Sì, e poi mi ricordo, perché erano VHS, non contenevano niente E poi mi ricordo che uscivano un po' quando gli pareva a loro, era una cosa strana Però forse erano dei ricordi confusi Eh, esatto, sì Ma no, ricordi bene Ah, ricordo bene Nurazzino chiede Si ricordi benissimo Qual è il lavoro di cui vai più fiero? Aspetta che recupero, perché è una domanda un po' più ampia Il lavoro di cui vai più fiero, indipendentemente dal successo riscosso Qual è il lavoro per cui è più felice essere ricordato? Ma, boh, come doppiatore Ma sì, Eros e Crassi il Clown, diciamo Questo, Eros specialmente Poi ho fatto una bella serie Pink and the Brain, Mignolo e Prof Ah, certo Due topini bianchi che vogliono conquistare il mondo E lei, diciamo, il mio orgoglio è che mi ha scelto Steven Spielberg in persona Ah, boh, non lo sapevo questo Sì, sì, sì Abbiamo fatto i provini Io e tantissimi altri colleghi Tutti eravamo in attesa Un'attesa, tra l'altro, durata parecchi mesi E alla fine proprio venne Spielberg Insomma, scrisse Spielberg in persona Di ripetere le follie che faceva lui con la voce Ma non ci riuscivo perché lui è, secondo me, inarrivabile È il mio mito Piacerebbe tanto incontrarlo Rob e Paul Andate a vedere su YouTube le cose che fa Veramente bravo Però, insomma, ecco, di questa cosa vado fiero Ok No, no, sì Cioè, è bello quando gli autori americani Decidono di scegliere anche le voci all'estero Vi ricordo che Kubrick scrisse addirittura una lettera Al doppiatore italiano di Hall Perché disse addirittura che era la miglior voce mondiale Esatto Di Hall Esatto Scrisse a Gianfranco Bellini Ok Che appunto diede la voce ad Hall E complimentandosi Oh, mica male, Kubrick Ma poi la lettera di Kubrick deve fare abbastanza impressione Porca miseria Eh, sì E come si chiama il doppiatore che hai detto? Se lo puoi ripetere perché qualcuno non l'ha capito Rob Paulsen Scritto Paulsen Grazie Giacquaro P E domanda Un personaggio anime che ti sarebbe piaciuto doppiare? Un personaggio anime? Ma io dico sempre che un personaggio che ti sarebbe doppiare E che non mi è mai successo è Pinocchio Tra l'altro ci hanno anche fatto due serie In animazione giapponese E però non mi è mai capitato insomma E beh ci starebbe Poi sono in mente Ci starebbe Però Pinocchio mi piacerebbe Sì, sì, sì Ah, ok Ma qui andiamo già sulle domande pesantissime Cosa ne pensi del pensiero che sempre più si sta diffondendo di una preferenza della lingua originale? Aspetta che mi allargo così ci vediamo No, è uguale Che sempre di più si sta diffondendo No, ma vabbè l'ho letto Ok, ok, ok Vai Allora, questa è una vecchia questione insomma Innanzitutto io sento Adesso in generale Adesso non mi metto a sindacare su questa domanda Che è una domanda legittima e semplice Però in genere Sento sempre discorsi esclusivi e mai inclusivi Ovvero sia Ormai siamo nel ventunesimo secolo E tutti noi abbiamo la possibilità di vedere un'opera in originale Con telecomando possiamo mettere Con Netflix, Amazon Con DVD, con Sky Come ci pare l'opera che vogliamo vedere in lingua originale Che va benissimo Riusciamo anche a vedere telefilm in anteprima Attraverso il fansub con i sottotitoli E va benissimo A volte non soffrivo anch'io Ciò non toglie che però il doppiaggio È come dire È un servizio che si fa Alla maggior parte delle persone È un servizio sociale se vogliamo E siccome poi il doppiaggio è recitazione È anche un discorso attoriale E siccome il recitare è un'arte Se è fatto bene Il doppiaggio è anche un'espressione artistica Quindi perché cancellarlo? Oltretutto poi uno dice Ma io però lo sento in originale Ma uno in genere senti in originale L'inglese Tutto il più il francese Lo spagnolo Ma per esempio Netflix Mi viene in mente Ha diversi titoli in polacco In turco Ma anche il giapponese In ebraico Sì Vedere un'opera in originale Vuol dire anche godere delle sfumature Del dialetto Le sfumature dell'attore come recita Io non penso che tutti noi Siamo in grado di capire le sfumature Di una storia dove parlano in ebraico In yiddish O anche in giapponese Qualcuno forse ci sarà È così bravo Ma certo non la maggior parte E quindi ben meglio i sottotitoli Ben venga l'originale Ma ben venga anche il doppiaggio Io d'altronde in libreria Noi non andiamo a comprare Il libro di Guerra e pace in russo Lo andiamo a vedere Lo andiamo a comprare in italiano E se c'è una buona traduzione È così il doppiaggio Sono doppiaggi fatti bene Altri fatti male Ma di per sé Il doppiaggio secondo me Dio l'acqua al mio mulino Però è una cosa positiva E non l'esclude Mi credo poi di vedere Le cose in originale C'è da dire anche che Con i cartoni animati C'è anche da fare un altro discorso Che in America Quei personaggi A parte la Disney Che a volte crea dei modelli O disegna dei personaggi Sul doppiatore Che poi lo andrà a interpretare C'è da dire anche che La maggior parte dei cartoni animati Scelgono un doppiatore E gli fanno doppiare Quel personaggio animato Noi facciamo la stessa cosa Nel nostro paese Quindi è anche bello Avere i nostri doppiatori Che interpretano Quel personaggio lì Per esempio Crusty è doppiato In America Dal doppiatore americano E lui è Crusty Noi abbiamo il nostro Crusty Ed è giusto Perché fondamentalmente Lì non si tratta di recitazione C'è la recitazione vocale Che però possiamo anche Avere noi Con i nostri doppiatori Quindi quel cartone animati Secondo me È un valore aggiunto Avere il nostro doppiatore Poi È un altro Questo è un altro discorso ancora Sì sì Sono interpretazioni Ripeto Insomma torniamo a bomba È un'espressione artistica Se fatta bene Ok E invece Quali sono gli anime Che preferisci Adattare O anche doppiare Perché avrai un genere Che preferisci Avrai degli autori E degli studi che segui Sono curioso Allora io Amo tantissimi Robotoni Per cui mi è piaciuto molto Giant Robo Proprio Ci ho goduto A dirigerne il doppiaggio E All'epoca Non mi piaceva Doppiare Goldrake Poi invece Ma erano i primi Cartoni giapponesi E invece poi L'ho visto in televisione E come tutti Non mi sono innamorato Poi addirittura Facevo Sega a scuola Cioè non andavo a scuola Parliamo per tutta l'Italia Non andavo a scuola Perché volevo seguire L'avventura di Gig Robot E Poi so ecco Di Robotoni Mi piacciono parecchio Poi mi piace molto Dirigere Code Geass Per esempio Ok Questi intrighi Con delle robe strane Mi piacciono molto Insomma Beh Gurellagante è piaciuto Che è proprio La follia totale Smi Sì Mi è piaciuto Cioè nel senso Non è che Non mi sia piaciuto Non è Insomma il mio preferito Però sì Insomma È gradevole Ecco Non ci vado matto Ma mi è piaciuto Ok Più promare Mi è più divertito E quello è proprio Una gioia per gli occhi Cioè se si va a cercare Il perone dell'uomo È finita Non è asciuta Quel film lì Però se ti siedi E godi Hai detto bene Hai detto bene Una gioia per gli occhi Sì E al cinema Si era Abbastanza letale Quei colori Cioè poi non si ferma mai È un film che non si ferma Zilla Fu un film difficilissimo Da adattare Perché innanzitutto Era un film lunghissimo Durava due ore E passa Due ore E quaranta Non mi ricordo Una roba Faticosissima In più poi Io in genere Sono abbastanza veloce Nel fare gli adattamenti E avevo Come dire Stabilito Con la casa di doppiaggio Che avrei consegnato Il copione adattato In 15 giorni E invece Era un lavoro Un lavoro Della Madonna Insomma E ci ho messo Esattamente il doppio Ci ho messo un mese Per adattarlo E abbiamo contato Che in tutto Compresi Tra protagonisti Personaggi Coprotagonisti Ma anche Personaggi del brusio Che va dall'uomo uno Tassista E tranviere Insomma C'erano quasi Più di 300 personaggi La fatica immane Però poi alla fine Insomma Ce l'ho fatta Poi anche in sala Perché poi L'ho anche diretto Insomma Ho visto L'adattamento Se funzionava o no E Sì Insomma Tutto è fiato liscio E Bene Insomma Sono contento Andate bene Non sapevo di questa roba qua Madonna Che pesata E Ah Questa è una domanda figa Dato che te sei appassionato Cristian È vero Eh sì È vero Ogni volta che mi vedo un cartone Certo Mi spoilerò il finale E bene Sì Ma oltretutto Non solo Quando sono davanti al leggio E quindi faccio doppiaggio E Il più delle volte Me lo spoilerò Quando sono il direttore di doppiaggio Per cui Prima ancora di tutti Mi devo vedere Tutta la serie O tutto il film Per cui Appunto Già mi vedo il finale E a volte un po' Mi scoccia Sì A volte no Sono ansioso di sapere Come va a finire Per cui Mi fa piacere vedere il finale A volte invece Marca di serie Già Eh a proposito Di finali Di grandi reboot Eccetera Volevo parlare con te Del primo adattamento Del reboot Ufficiale Di Dragon Ball Che fu La battaglia degli dèi Il primo adattamento Che era quello Con il primo doppiaggio Che era quello Fatto con gli storici Doppiatori Della Della Dynamic Se non erro Esattamente Sì E mi ricordo Che quando è il cinema Sì Inizialmente fu strano Perché non risentì Le voci storiche Che ero abituato A sentire su Mediaset Però Io Vidi le cassette Della Dynamic E quindi Un po' Quei doppiatori Li riconoscevo Soprattutto la voce Di Goku Però mi impressionò Il perfetto Connubio Tra Un adattamento In italiano Corretto Fluente Capibile Comprensibile E La fedeltà Del giapponese Perché c'era Gohan Che era educatissimo Quindi signora Vegeta Signora Bulma Eccetera Poi Gli accenti Messi al giusto posto Shenron E i Saiyan Namek Che invece In Mediaset Era Namek Shenron Eccetera E Come si è arrivato A A trovare Questo Questo equilibrio Secondo me Perfetto Allora appunto Citiamole Allora VHS Della Dynamic Italia Dragon Ball Era uscito Anni ancora prima Su delle tv private Con un doppiaggio Romano Con altre voci Poi ci fu appunto Una pausa Di alcuni anni E la Dynamic Italia Se non addirittura La Granata Video Adesso non mi ricordo bene Importò questi film di Dragon Ball Perché Già all'epoca in Giappone Era un personaggio Famoso E niente La cosa che È butta spontanea È chiamare Chiamare Sia insomma Voci Importanti Della piazza romana E soprattutto Essere fedeli All'originale Come si fa sempre Cioè Niente di che Insomma Niente di speciale Verso il successo Delle VHS E anche del personaggio Sia in Italia Che anche in Giappone Ma in Mediaset Ha comprato Tutta la La serie televisiva Però Diciamo Sposando il doppiaggio A Milano Perché Non so Gli era più comodo Non so cosa dire E probabilmente Adesso Io non lo so Ovviamente Non Non posso saperlo Insomma Non era una cosa Che mi riguardava Su cui ci ho messo le mani Immagino che Visto che Mediaset Poi questo Questa serie di cartoni La mandava Il pomeriggio All'interno di Bim Bum Bam Dove comunque Il target era ampio Dei bambini più piccoli A quelli più grandicelli Abbia un po' Come dire Infantilizzato Il tutto Per cui invece Di Olonga Abbiamo Oscar Invece di Kamehameha Abbiamo onda energetica Per rendere tutto Un po' più Comprensibile Anche più bambini Immagino E poi invece Appunto Dopo tanti anni Dall'Aki Reddia Ha comprato il film Dragon Ball E invece Niente Ha voluto Le voci romane E come fu all'epoca Ristabilire Le cose corrette Come sono in originale Giapponese E poi come siamo tornati Invece al doppiaggio Mediaset Perché è stato ridoppiato Con l'ultimo film No no Che è stato ridoppiato Anche la battaglia Dell'idei Se non erro Guarda Non so bene Perché appunto Non lo so Immagino Che appunto Mediaset Scaduti i diritti Per la edizione In videocassetta In DVD Quello che era Abbia poi Comprato I diritti Televisivi E quindi poi Ovviamente Ci fa quello che ci vuole E giustamente Correntemente Ha ripreso Però il doppiaggio Televisivo Che ha sempre adottato Ok Questa è una domanda Interessante Perché Questa qua Ci racconti la tua esperienza Con il tuo difetto di pronuncia E come sei riuscito A rendere il tuo punto di forza La edizione Non ha avuto impatto Su di esso Minchia Guarda È stata No no È una bella domanda Allora Io ho cominciato piccolissimo Per cui ero un bambino E il bambino Che ha difetti di pronuncia Ti fa anche temerezza È carino È coccoloso E va bene così Per cui Io ho continuato E tra l'altro C'erano Grandi doppiatori Dell'epoca Cigoli La Simoneschi Che dicevano Ah ma che carina Questa voce Questa R Che simpatica Ma la mano che crescevo Però c'era in effetti Il problema Che Certo Era un difetto di pronuncia E stavo valutando In effetti Se andare da un logopetista E fare esercizi In merito Per levarmi Questa R Rotata E poi però Il doppiaggio Io continuavo a farlo Ho detto Boh vabbè Finché Finché continua Il lavoro Va bene così E ha sempre continuato Il lavoro Per cui non me lo sono più tolta E per cui in realtà Non mi ha mai portato Difetti O ostacoli E' chiaro che Al di là Della R Anche la mia voce Gutturale E' chiaro che non potrò mai Doppiare James Bond Doppierò dei personaggi Caratteristi Cartone animati O anche telefilm Insomma Come che ne so Cripki su Big Bang Theory Che sono Dei caratteristi Ma va benissimo Insomma Per cui appunto Questo difetto Non me lo sono più tolto E ormai Non me lo tolgo più Ma strano Perché in Crusty Io Non me l'avevo mai accolto La rimoscia Ti devo dire Ah vedi Cioè O non mi ricordo male Tipo Mandala Effect Oppure Non lo so No Ma lo so Io non ci faccio più caso Per cui magari Che ne so Mentre recito Si sente di meno Non ti saprei dire Però certo La R Ce l'ho La R rotata Siete dei maiali Come sei stato scelto Per Crusty Appunto Cioè Chi ti ha scelto Soprattutto Allora Sempre La mitica libreria Metropolis Della fumetteria Che frequentava A Roma Accanto aveva una tavola Calda Dove tutti andavano Io quindi Stavo sempre in libreria Allora di pranzo Io E Proprietario commesso Il negozio Andavamo in questa tavola calda Dove però Andavano anche i doppiatori Perché Poco l'ho distante C'era Una sala di doppiaggio Lì Rivili di nuovo Perché già ci conoscevamo Tonino Accolla Che mi vede Mi fa Ciao Fabrizio Come stai Guarda Mi deve arrivare Una serie di cartoni animati E credo che ci sia un personaggio Adatto a te Per cui ho fatto questo provino Grazie a Tonino Accolla Lunghissimo Difficilissimo Estenuante Che Mi ero pure stufato E Niente Alla fine Insomma poi Mi hanno scelto L'ho fatto io E anche altri colleghi doppiatori Però poi insomma Alla fine Sono stato scelto io E mi sono portato appresso Sono quasi l'unico Il solo Quasi Per 32 anni Sono uno dei pochi doppiatori Che dalla prima stagione Fino all'ultima Ha mantenuto il suo personaggio Da doppiare E Ci sono degli aneddoti particolari Perché comunque Hai Quante stagioni hai doppiato? Quante stagioni sono adesso? 31 Mi pare 31 31 sicuro Se non 32 E La botta Hai un aneddoto particolare Sulla tua lunga carriera Su Crasti O Magari una puntata che ricordi Ma No Guarda Ne ho due Uno che togli una colla Era un ritardatario cronico Cioè arrivava Un'ora Due ore Tre ore Non si faceva vedere Era veramente Genio di sregolatezza E solo che Una volta io sono andato Io invece che sono più puntuale Sono andato puntuale Al turnio d'ottaggio Lui non arrivava Aspettiamo 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 E a un certo punto Diciamo Guarda aspetta Mi dicono Finché non arriva Tonino Io invece Ero stufato Ho detto No Facciamo così Io intanto comincio Crasti Perché Ben o male Personaggio lo conosco Ma quando arriva Tonino Risente il tutto E poi se non va bene una cosa La rifacciamo Io ho fatto Tre ore di episodi Di Simpson Tonino non è arrivato Io sono tornato a casa E evidentemente Quello che ho fatto Andava bene E poi invece Un'altra volta Ricordo che Devo fare il turno di Simpson E lei era portato in ritardo Io venivo dalla Spagna E lei era portato in ritardo Per cui non sono potuto Passare a casa Per cui ero proprio sudato Sporco Puzzavo Come un cavallo marcio E sono andato in sala Puzzando come un cavallo marcio E non so I miei colleghi attorno Che cosa avranno pensato Però Lavoro prima di tutto No no Cioè Stacanovismo totale E invece Te come ti Ti approccio a un personaggio Per esempio Ora Vabbè abbiamo detto Crasti Ma ci sono tanti altri personaggi Cioè Ti studi la versione originale Oppure ti guardi il cartone Per cercare di capire Come Come Seguire la voce Di quel personaggio lì Allora Innanzitutto C'è da ricordare Che il doppiatore Diversamente Dall'attore di teatro Non si porta il copione a casa Non si studia la sua parte Viene chiamato A volte neanche sa Che cosa Che cosa viene chiamato Va in sala idonee Doppiaggio E sul momento Apri il copione E legge Legge la sua battuta E poi la interpreta La recita E poi il direttore di doppiaggio Semmai gli spiega bene Guarda questo personaggio E così Così Colà Gli spiega il personaggio E Da delle direttive Ehm Per cui Appunto Non so assolutamente niente Ehm Aspetta qual'era la domanda Ehm Come ti prepari a un personaggio Non mi preparo Niente Non mi preparo Ehm Però va da sé Che il doppiaggio Ehm Ehm Buona regola è Che tu debba rifare Esattamente Quello che si fa in originale Ehm Io Per quanto riguarda Grazie al clown Lo seguo abbastanza Seguo abbastanza L'originale Di Dan Castellaneta Come ti dicevo prima Seguivo Il più fedelmente possibile Rob Paulsen Quando doppiava Pinky Nel caso però Per esempio Di Eros Di Pollon A un certo punto Le prime puntate Seguivo Come da doppiatore Modello Il L'interpretazione originale Però non era abbastanza divertente Secondo me E a me Questo personaggio Mi piaceva tanto Mi scappava E per cui A un certo punto L'ho fatto un po' mio Ehm Andavo sugli acuti Con delle intonazioni Che in giapponese Invece non Non aveva Era un po' più sottotono Secondo me E per cui Non me li studio Però Lì per lì Ehm Così Vado un po' istinto Se è il caso di seguire L'originale E a volte anche farlo un po' mio Dopo 31 anni I crasti Ehm Qualcosa di mio Ci metto Però di base Seguo l'originale E così Le altre interpretazioni Insomma Di base Seguo l'originale Beh Ormai Penso che Crasti Tu lo faccia così Insomma Come Ti viene quasi naturale A occhi chiusi Ma quindi Il doppiatore È anche molto lavoro Di improvvisazione Perché se non ti porti La parte a casa E devi stare lì Sull'eggio E fare così Sull'impronta È tutto improvvisazione Eh guarda Sì Invece stranamente È il contrario C'è poca improvvisazione Perché devi essere Molto molto attento Perché è molto difficile Leggere il copione Recitarlo Interpretarlo Comunicare un'emozione Solamente con la voce E poi leggere Contemporaneamente Guardare lo schermo In alto E andare a sinche Con le labiali Con le labbra Del personaggio In più poi Hai anche una cuffia Esattamente come ce l'ho io E come ce l'hai tu E dove sentiamo L'originale Cioè a un certo punto Lo schermo viene mutato Tutto in silenzio Se no Non si potrebbe registrare L'audio italiano Però io in cuffia Sento l'originale In modo che mi faccia Da traccia Per cui tu capisci Che sento Su un orecchio La traccia originale Devo leggere Devo recitare Devo guardare lo schermo Devo andare a sinche Quindi Più che improvvisazione C'è molto studio C'è molta concentrazione E È un lavoro Complicato Fare doppiaggio Mi immagino Ce l'ha pensato A 400 cose al secondo Io Eh sì Non ce la farei mai C'ho anche una pazienza Penso allucinante Sì Sì Poi sentendo le interviste Di tantissimi Più a fare il direttore Doppiaggio Serve pazienza Eh ora ti voglio chiedere Un paio di domi Anche lì E ho sentito tantissime Interviste di doppiatori E tutti Convergono sullo stesso punto Ovvero che avete sempre meno tempo Per doppiare le cose Quando un tempo invece c'era C'erano dei tempi un attimino più distesi Quindi oltre a tutto questo Avete anche la fretta di finirlo Alla svelta Insomma Sì A questa cosa è vera Ridimensioniamola però Ok Ovviamente Ovviamente Come dire Specchio dei tempi È chiaro che Ma tutti i nostri tempi Tutte Le nostre maniere Sono più veloci Rispetto a 40-50 anni fa Il mondo va avanti Va avanti più velocemente Tant'è che Rispetto a 40-50 anni fa Il doppiaggio Non si usa più la pellicola Non si mette più la pellicola Sulla L'anello Sulla macchina da presa Esatto Il famoso anello Che gia Adesso va tutto in digitale Per cui va più veloce Ma anche noi Insomma Il telefono C'ha il tasto Che ne so Il telefonino O anche il telefono Non c'è più il disco Che fa adesso dico delle scemenze tutto il nostro mondo va più veloce e quindi è normale giusto che sia così e quindi va bene, diventa una cosa normale a volte è vero invece che con tutta sta fretta ce n'è più di quanto invece è tollerabile e a volte servirebbe invece un po' più di calma per capire meglio il prodotto per farlo meglio, però chiaramente sono diverse sfumature, ma insomma vado un po' così vado un po' con l'accetta, più si va veloci più si il lavoro finisce prima più ne arriva altro e quindi c'è tutto un giro di soldi insomma questa domanda qui prima di procedere con l'adattamento è divertente, non ci ho mai pensato una domanda della chat beh, bacino con i Simpsons forse qualcosina soprattutto classiche qualche volta insomma si ride si scherza fra di noi poi a me tuttora mi fa tanto ridere i crasti le batture dei Simpsons le leggo prima di insomma di interpretarle mi vede ridere insomma nonostante se ne passavi 31 anni però poi insomma poi dipende insomma quando si doppiano i porno si doppiano i porno e basta non è che uno poi come dire si anche te hai fatto perché tipo ho sentito forse la zanzara un'intervista di Pino Insegno dove dove raccontava che lui Ward e altri avevano iniziato con il porno a te che è mai capitato di doppiarne uno? si 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 non ho iniziato con i porno però si si a un certo punto negli anni 80 se ne doppiavano tantissimi di porno e per cui capitò anche a me i doppiarli ne ho doppiati o tre o quattro non mi ricordo e si si insomma l'ho fatti mi divertiva anche insomma di per sé però poi alla fine è una palla perché devi fare solo questo è principalmente mi diverte all'inizio poi due palle anche perché i doppiatori vengono pagati a linea di test quindi insomma sono solo all'epoca no all'epoca no all'epoca no all'epoca c'erano delle santi categorie per cui c'erano categorie A, B, C A, B, C e D, Bo no extra A, B e C e per cui c'erano categorie e quindi pagato in base insomma alla tua esperienza la bravura e così via figo e senti invece per un adattatore o per un direttore di doppiaggio anche è ovviamente un vantaggio essere un doppiatore perché già sai come insomma intonare la voce come interpretare il personaggio però quali sono state le cose che sono state più difficili da adattare o da dirigere per te dei lavori faticosi a parte Shingozilla che hai già citato Shingozilla poi dunque altre cose difficili sono state ma guarda in genere più o meno è molto difficile adattare gli anime gli anime i cartoni giapponesi perché loro per dire la battuta hanno un ritmo diversissimo dal nostro spezzettano molto il concetto per dire che ne so andiamo al bar che noi abbiamo appunto andiamo al bar loro sto inventando perché non so il giapponese dicono Shingozilla e tu capisci ma come faccio adesso a dire andiamo al bar quando questo ci mette mezz'ora per dire andiamo al bar ah devi dire lo stesso concetto ovviamente usando più parole e spezzettandole quindi faccio sempre un esempio così al volo inventandolo ehi amico come stai crederesti andare al bar ti va? e quindi ho allungato la frase l'ho spezzettata ma il concetto è lo stesso non ho tradito l'originale ok quindi anch'io guarda ho adattato un libro dal giapponese ed effettivamente noi che siamo molto più diretti abbiamo mille modi per dire una frase in maniera più stringata più estesa eccetera ho avuto delle difficoltà enormi quando mi sono trovato le robe tradotte in giapponese perché loro veramente rigirano in continuazione intorno a un concetto prima di arrivare al punto e quindi è difficile se non hai tradito hai giunto hai infiocchettato poi loro per esempio diversamente da noi hanno tra le tante cose ci mettono sempre in mezzo sta parola demo demo ma però tuttavia ma sempre lo mettono però a Dario sono veramente contento di essere qui però certo fa caldo oggi però basta no anche no ma diventa ridondante fastidioso eh sì diventa ridondante io lo metto una o due volte poi al sacco i demo li tolgo ebbè ingiustamente è tipo il D per il livornese praticamente una cosa che non significa esatto di assomiglio anche demo ci siamo forse viene da lì chissà non lo sappiamo no in realtà so da dove viene il D ma non viene dal Giappone ecco sono sicuro che non viene dal Giappone però sì poi ho trovato una roba che mi fa ragione al giapponese tipo medio e invece una domanda la devo fare per forza su questa cosa qui te dove ti collochi tra il tradire a bestia come faceva la Mediaset con i nomi tutti stravolti o anche dei concetti per esempio Mediaset non diceva mai morire no o non nominava mai Satana o Dio era il Supremo oppure ci ha lasciati non è più in questo mondo cioè trovavano tutti i modi per non andare diretti e invece l'eccessiva fedeltà te dove ti posizioni di che partito sei allora io concettualmente mi collo con l'eccessiva fedeltà bisogna essere fedeli adattando ovviamente ho fatto degli esempi però devi essere assolutamente fedele se quello dice maledetto morirai no cioè come dire mettiamo in italiano questa eccessiva carica morirai diciamolo io sono stato fortunato perché in genere ho lavorato sempre per per VHS DVD quindi per delle società di produzione che non avevano limiti col Moige o con i telespettatori e le volte invece che devo dire ho adattato per Mediaset la Rai grossi problemi non ho avuto mi ricordo che censurarono un personaggio che si chiamava Ginga ma la mamma lo chiamava Gin come diminutivo ma Gin non si poteva dire perché eri sticazione al bere a un certo punto eravamo epoca Berlusconi il titolo si chiamava il titolo dell'episodio era il Cavaliere Nero non si poteva dire una volta su una canzone osso duro non si poteva dire il mio scrigno non si poteva dire perché sembrava no dai il mio scrigno cosa sembra dai era un po' eccessivo forse scandaloso il mio scrigno sei un sozzone ma poi non ci avevo mai pensato esatto non so a quale pervertito gli ho avvilemente però il Cavaliere Nero penso sia uno degli aneddoti non più belli della storia del doppiaggio ma della vita mia perché non era il Cavaliere Nero perché c'era Berlusconi è bellissimo però insomma a volte non è colpa del doppiatore è che proprio la rete divisiva ti dice no guarda queste cose non vanno fatte e censuriamole però ecco sono stato fortunato perché non mi sono mai capiato cose cose particolari e di mio sono assolutamente sulla completa fedeltà però sempre dovendo adattare per forza di cose perché se no sarebbe una traduzione letterale letterale non ci serve insomma in questo caso questa professione no non ci serve e poi ti vorrei chiedere te sei tra l'altro una persona che si è sempre battuta su per la censura cioè sei sempre stato contro la censura negli anime no? tanto sei iscritto o eri iscritto ad un'associazione mi pare contro la censura come si chiama mi ricordo no Adam l'Adam sì 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 allora io non so neanche cosa che fine abbia fatto questa Adam mi ricordo che era una situazione di di fan insomma di di iscritti appassionati di animazione giapponese che mi chiesero un articolo sulla censura negli anime e che io ho fatto volentieri ho espresso la mia convinzione io sono proprio assolutamente contrario alle censure di qualsiasi tipo nei cartoni nei cartoni nei film nelle film nella satira sono contrario alla censura comunque un'espressione umana artistica e così deve essere poi uno giudica per quello che è ma le cose non vanno censurate e però io poi non non l'ho più sentita però sono anni che va avanti questa cosa che io faccio parte dell'Adam e sono contro la censura che tecnicamente è vero grazie per l'abbonamento e allora voglio farti una domanda a proposito dei tempi che corrono perché se è vero che negli anime la censura un po' per fortuna si è persa la troviamo sempre meno c'è da dire che siamo arrivati a una censura al contrario ovvero c'è stata la polemica a proposito di doppiaggio di censura c'è stata la polemica attualissima dei doppiatori di colore che devono assolutamente per forza doppiare i personaggi di colore così i personaggi asiatici devono essere doppiati da doppiatori asiatici te cosa ne pensi di questo perché per esempio nei cartoni c'era stata fatta una polemica su Bojack Horseman e a proposito di questo che i doppiatori asiatici devono interpretare personaggi asiatici nel cartone nel film te cosa ne pensi io sono d'accordo ok sono d'accordo allora innanzitutto in Italia questa questa cherelle non si pone perché noi non abbiamo doppiatori che ne so afroamericani o orientali per cui siamo tutti italiani sta cosa non si pone in America invece questa polemica è nata in America invece abbiamo molte persone asiatico afroamericane che sono discriminate nel posto di lavoro e vengono scelti invece attori bianchi per doppiare appunto invece personaggi di altre etnie allora noi possiamo fare un esempio di questo genere qua in Italia per far capire è come se per doppiare un torinese viene chiamato un siciliano ok ma come ma c'è storia a doppiare il torinese perché devi prendere un siciliano che imita l'accento torinese cioè quello giustamente rosica non viene giusta era un po' la polemica di quando Gabriele Garco faceva le fiction della mafia eccetera e tentava di parlare siciliano e i siciliani si incazzavano e dicono ma come con tutti gli attori ti stanno ti stanno rompendo le palle per la finestra aperta ti capisco amico mio ti capisco ecco con tutti gli attori bravi che ci sono in Sicilia o siciliani cavo fateli interpretare dai siciliani no gli attori che devono fare un personaggio siciliano quello era il senso un po' esattamente ok 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 beh io devo capire come viene com'è l'ambiente lavorativo del doppiaggio e dell'adattamento in America perché penso che sia completamente diverso qua ovvio non ha non ha nessun senso perché in Italia siamo tutti italiani allora oltretutto poi adesso dipende il personaggio dipende il film a volte ci sono proprio gli afroamericani hanno uno slang particolare che quindi è giusto che lo faccia uno che questo slang ce l'abbia ce l'abbia in senso ok ripeto appunto è come se devi doppiare un sardo e chiami uno del friuli per capirci ok ok si è un'opinione nuova e però effettivamente può essere anche così ma in Italia no in Italia vabbè non ci sta questo problema no 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 però in America si effettivamente ci sono certi slang afroamericani che i bianchi difficilmente possono interpretare oppure addirittura scimmiotano e questo può essere anche fastidioso per la comunità afroamericana probabilmente e poi ecco questa è un'altra domanda che era abbastanza ricorrente in chat con questa voce molto particolare molto caratteristica c'è mai qualcuno che in strada ti ha riconosciuto ti ha sentito e ha detto ah lui ok si si capita spesso capita spesso sono momenti imbarazzanti o ti fa piacere no no mi fa piacere no no mi fa piacere ovviamente beh insomma viene riconosciuto magari dice ah hai fatto parte della mia infanzia mi è piaciuta la tua interpretazione è una cosa piacevole sicuramente e ma tipo il fatto di doppiare da così tanti anni crasti non crea non ti crea del disagio quando tutti incessantemente ti chiedono mi fai quel pezzetto di crasti mi dici quella cosa di crasti boh io ti piace un box fa parte del gioco fa parte del gioco fa parte del gioco ne tengo conto ok 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 è stato complicato è stato complicato dirigere One Punch Man adattare un personaggio apatico come il protagonista Saitama bellissima questa allora la versione è stata difficile perché dovevamo come dire trovare una voce adatta appunto a Saitama e non si riusciva a trovare questa voce e quindi è stato veramente è stato lungo il percorso per trovare la voce giusta e poi una volta trovata qua di Vestando Campagliola e diciamo l'abbiamo sono stati molto molto oppresso per renderla insomma più efficace possibile l'adattamento no è stato facile io l'ho trovato veramente splendido come il doppiaggio e tutti i personaggi sono in parte mi sono divertito tantissimo a vederlo in italiano soprattutto le parolacce che io non ero abituato ancora alle parolacce così presenti invece in One Punch Man ci sono stavo morendo perché come si chiama il doppiatore di Steve Buscemi i nomi non mi ricordo mai che doppia la ragosta nella prima puntata sì Luca Dalfabbro ok quando quando dice non vorrei difendere quel bambino di merda poi stavo svenendo perché la voce di Steve Buscemi che dice una stronzata del genere in quel personaggio quella ragostona in mutande non lo so mi ha fatto strappare è stata veramente è stata una bella emozione e invece Fabrizio una domanda chiave ci sarà mai la possibilità di vedere prima o poi un doppiaggio di Jojo perché qua è pieno di Jojo fan per essere polite guarda se ne parla da anni se ne parla da anni ma secondo me possibilità zero perché è una serie molto lunga e certo nelle tv diciamo in chiaro dubito che possa andare in onda tu ci potresti Jojo su Mediaset no la Rai praticamente non fa più non manda più cartoni giapponesi in onda ma nessuna diciamo casa editrice si accolla stasera lunghissima anche perché purtroppo il mercato si è contratto parecchio per cui non la vedo fattibile la cosa e secondo te qual è il futuro degli anime in Italia c'è solamente sulle piattaforme di streaming oppure c'è del futuro per le televisioni in chiaro qui i tempi sono duri c'è veramente invece di un'evoluzione c'è un'involuzione ma proprio generale c'è tuttora censura per cui non so quale può essere il futuro sulle reti in chiaro no evidentemente no perché c'è il Moij un'associazione quel tal'altra cioè basta veramente che un genitore telefona e dice no avete fatto vedere il mutandino di Bulma e la rete televisiva ha dei problemi per cui il futuro è sì nelle reti streaming perché anche i DVD e Blu-ray il mercato si è limitato insomma non si vende più come una volta che peccato no più che altro non si vendono proprio cioè o fai l'edizione ora hanno preso il via tipo Dimit lo fa spesso fa queste edizioni di pregio con il booklet un DVD pieno di contenuti extra un'edizione un po' più figa da vedere anche da esporre in casa allora magari una persona prende anche l'edizione fisica un po' come videogiochi vendono diciamo vendono anche bene ma non vendono più quelle cifre quei numeri come erano negli anni 90 o fino all'inizio del 2000 insomma questa è una domanda interessante ma nel mondo del doppiaggio non esistono progetti o case editrici che lavorano nel mondo digitale internet media online piuttosto che per la televisione ormai con tante possibilità come Patria o il crowdfunding le serie doppiate in italiano potrebbero essere supportate dalle stesse community e network su questo sono d'accordissimo anch'io tipo Jojo un crowdfunding del doppiaggio di Jojo in teoria sì è possibile in teoria ma le cifre sono veramente sono considerevoli tu conta che per mediamente per doppiare un anime di 20 minuti doppiare solamente costa circa un vediamo facciamo dei rapidi conti così ma diciamo un 8000 euro a puntata di 20 minuti un film un film il doppio diciamo un po' meno del doppio solo il doppiaggio poi però bisogna comprare il film poi c'è la post produzione ci sono diverse spese per cui sì crowdfunding è possibile però ci vogliono tanti soldi ci vogliono tanti soldi sì eh Jojo sì ciao se per una puntata ci vogliono 8000 euro non so quante puntate sono 300 quante sono 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 boato sono boato boato sì sì che bella questa domanda aspetta ecco qua ci sono mai stati dei personaggi che hai doppiato per così tanto tempo da influenzare aspetti della tua personalità o del modo di fare se sì in che modo no no non è che appunto uno recita interpreta si diverte ci mette la passione però poi insomma chiudi non è che vado in giro con le scarpe lunghe o il naso finto di crasti un nudo come Enos insomma no no quello sì però forse il contrario diciamo nell'interpretazione metti qualcosa di tuo più che il contrario insomma ok beh per esempio io invece leggendo manga da ragazzino sono stato pesantemente influenzato da determinati personaggi che mi hanno proprio cambiato il modo di fare non so se quali sono stati i tuoi personaggi emblema nel mondo pop da ragazzino ma dunque negli anni 80 che cosa che mi piaceva tanto vabbè Ramma per esempio devo dire che gradivo parecchio e che cavolo ci stava Martin Mister per quanto riguarda i fumetti ok in televisione cosa vedevo negli anni 80 porca miseria e mo sono passati un po' di anni c'era Dynasty mi ricordo una serie tv Dynasty ok noi invece vabbè io Dragon Ball c'avevo solo Dragon Ball cioè Dragon Ball era proprio tutta la nostra vita mi ricordo era finale Freezer contro Goku c'è sembrava veramente il mondiale c'era la gente che tirava le sedie c'era proprio io ho dei ricordi impressi nella testa favolosi grazie a Merpegio per l'euro le sarebbe piaciuto doppiare un personaggio dell'attacco dei giganti allora dico dico quest'aneddoto l'attacco dei giganti l'avevano proposto a me come direzione di doppiaggio ma io ero occupato a dirigere una serie inglese che a me piaceva molto i telefilm perché ho detto no io devo finire questa serie non la mollo per fare l'attacco dei giganti per cui mi sembra che feci parte dei provini per i personaggi principali mi pare che ho adattato il primo episodio e poi invece l'ho l'ho mollato tra l'altro è un bravissimo collega che è Giuggi Castagna peccato che lo porta avanti ormai da tre stagioni è bravissimo l'attacco dei giganti penso sia una delle cose tra l'altro più belle che sono uscite proprio negli ultimi anni sì sì è una serie interessante grazie Manus per l'Aurio 3 come è stato far parte di Simpsons per 30 anni cos'è cambiato secondo lei nel tempo la serie cioè come è cambiata la serie secondo lei nel corso del tempo ma no io l'ho detto prima la serie a me continua a divertire è cambiata ovviamente l'animazione più precisa sono fatti anche proprio passi avanti per quanto riguarda tecnicamente le animazioni i disegni ora sono meno raffazzonati e somigliano anche meno forse al disegno di Matt Krening per il resto l'umorismo insomma come dire seguitempi a me divertono ancora che rapporto hai avuto con i videogame ne hai mai doppiato qualche hai mai doppiato qualche personaggio oppure ne hai qualcuno che avresti voluto fortemente interpretare io sono una pippa con i videogame sono una pippa di videogame e non me ne intendo proprio stranamente molte cose insomma sono un nerd per tante cose nei videogame proprio non me ne intendo ho però doppiato due videogame di Simpsons e un altro che non mi ricordo che cos'è però sì i Simpsons e i Simpsons li ho doppiati come è cambiato il doppiaggio col miglioramento dell'animazione dice Mauro per 97 forse per il discorso labiale che adesso i movimenti forse sono più precisi allora per esempio i film di Miyazaki sono precisi per quanto riguarda il labiale il sync e per cui è più facile sotto certi aspetti doppiarlo ma per esempio già Gundam per dire no nonostante insomma sono tanti film di Gundam dagli anni 80 fino adesso però il doppiaggio non solo sono sono imparato i giapponesi e poi volevo chiudere come abbiamo iniziato ovvero con si parlava di fumetti collezioni prime edizioni e te collezioni qualcosa che io sono un collezionista di varia roba e anche te vedo ogni tanto su facebook pubblichi qualcosa di carino ecco cos'è che collezioni quali sono le tue collezioni di cui vai più fiero ecco guarda allora io ho tutta la collezione di Martin Mister e ho tutte quante la targa e il diario e il catalogo poi ho Dylan Dog molta roba italiana molta roba francese quindi tutti i puffi le strunfe in direzione francese la roba di altri personaggi di Peillot tipo Giovanni Pirlui tanta roba anni 50 tipo Geppo Soldino braccio di ferro roba spagnola roba americana ho di tutto ho veramente di tutto ho pochi manga devo dire pochi manga ho Bana Fish ho non tutto Death Note ho Femini Femini Compo di Sì Ojo quello di City Hunter esatto ho City Hunter perché mi piace mi piace Tsukasa Ojo però non ho tantissimi manga ho qualche libro illustrazione di artisti giapponesi quindi vai proprio nell'antiquariato vero insomma sì 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 ebbè ecco quel tipo di teoria che un po' si è persa in Italia cioè il formato tascabile da Edicola appunto gruppo TNT poi Cornavissute c'era Alan Ford sì sì bello è un bel periodo sì sì è figo a Luca è bello girare per quei banchetti dei vecchi collezioni ecco mi piace il zero calcare ok di quelli moderni ok sì ehi 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 salve a tutti grazie a tutti ehi 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 grazie a tutti